Siamo arrivati a 25 settembre per la prevenzione di un fuoco, la gente scura percorso in gara, avremo una sede di fiori a vuoto, se non arrivare a 19 settembre nel giocamento scelto della campana, da meno sopra che avremo la prima eliminazione scelta, si rimanerà singolarmente a 20 passaggi, e rimanendo tutte in un fuoco in gara, se non vorresti per la vostra regionale, a 5 aprile, che venneranno 10 punti a guardare con gara. A conto che sta pagando per la Grazie 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 e poi si sceglieranno fino all'attività, per la tua regola di gestione trenti che l'ha preso in via sono 5 minuti della segala e in azione, prima del primo, viene eliminato dal concorrente numero 24 all'estate in mattina, eliminato il concorrente 24 passate in via questo sul preguardo del 2016, siamo a facilità del 2015 il gruppo accettato in questo passaggio ancora, accennarisce il contatto attenzione, in azione del 2013, scusate un parere di nessuno di carbo in questo passaggio, il gruppo accettato, il gruppo accettato, il gruppo accettato viene eliminato il concorrente numero 105, eliminazione per il concorrente numero 105 per la scorrentezza, il figo Francesco, eliminato il concorrente 105, il figo Francesco per la scorrentezza, il figo Francesco, gliicatedi del gruppo accettato, lo hanno avrittけ la prima particolare del gruppo accettato, siamo a 1.014 siamo a 1.014 scusate levanta la distruita, spina, spinta, spinta è eliminato il concorrente numero 12 è eliminato il concorrente 12 con vicino Tommaso della partita di San Mauro che si deve fermare il concorrente 12 con vicino Tommaso della partita di San Mauro di San Mauro di San Mauro che è eliminato sulla regola del mino 14 stiamo avvicinando il mino 13 stiamo avvicinando su questo passaggio e la concorrente numero 128 ha eliminato su questo passaggio il mino 18 il concorrente 128 ha eliminato il mino 18 ha eliminato il mino 18 con vicino Tommaso della partita di San Mauro il mino 18 con vicino Tommaso della partita di San Mauro ha eliminato il mino 18 e ha eliminato il concorrente numero 11 con vicino Lorenzo ha eliminato il concorrente numero 11 con vicino Lorenzo con vicino Tommaso della partita di San Mauro con vicino Tommaso della partita di San Mauro ...355 di Antia e Arendt che si deve estermare perché è eliminato, eliminato il concorrente 355 di Antia e Arendt che si deve estermare. ... 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